Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di martedì 21 gennaio 2020, questo è il canale 17 di FanoTV e questo è Occhio ai giornali, la rassegna con i due quotidiani in edicola, il carlino e il corredo adriatico che tra poco sfoglieremo. Oggi è Sant'Agnese, buongiorno a tutti coloro che si chiamano e auguri a tutti coloro che portano questo nome, il sole sorgerà alle 7.35 e tramonterà alle 17.03. Il tempo c'è poco da dire, anche oggi per i prossimi giorni forse pioverà sabato, ma non c'è grande movimento sopra le nostre teste, nel senso che avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione, durante le ore notturne avremo delle gelate nelle zone interne, però nei fondovalle così come domani e giovedì lo stesso, situazione più o meno simile con durante la notte gelate, anche però nelle zone pianeggianti perché le nuvole saranno minori rispetto alla giornata di domani, quindi giovedì sarà un po' più freddo. Il temporaneo indebolimento di quest'alta pressione consentirà il transito di una perturbazione atlantica che apporterà deboli piogge per la giornata di venerdì e sabato, seguite poi da un miglioramento per la giornata di domenica. C'è un colpo di scena incredibile nella vicenda tragica della morte di quella bambina, ricorderete, di sei anni a Fermo, in un paesino vicino Fermo, una bambina di sei anni che è morta all'interno di un appartamento nel peggiore dei modi, bruciata praticamente tra le fiamme. Si salvò la mamma e si salvò la figlioletta più piccola. Il colpo di scena qual è? È che la mamma di questa bambina di sei anni è stata arrestata. Per gli inquirenti sarebbe stata lei ad uccidere la figlia di sei anni. C'è il massimo riservo ma qualcosa sta iniziando a trappelare. Andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesero con Pesero e Vallefoglia Unite, la città più grande delle Marche. È il sogno di Matteo Ricci ma è anche il sogno di Palmiro Ucchielli. Il sindaco sull'onda della vittoria del referendum sulla fusione con Monte Ciccardo, una fusione tira l'altra, verrebbe da dire. Pesero-Vallefoglia, ora creiamo il comune più grande delle Marche. Questo referendum ci spinge a guardare oltre per ragionare intorno all'Unione Pian del Bruscolo se può diventare un unico comune. Mi rendo conto che non è semplice, ma con Ucchielli abbiamo cominciato a ragionarci. La centropagina è una foto che c'è in tutte le edizioni del Corriere Adriatico. Piero Alisi passa la mano, closing a marzo. Nella Spaisina entra il fondo della Galassia dei Agostini. Accordo sull'aumento di capitale, il 51% del colosso delle macchine oleari a Dea Capital. Ricci assente, Ceriscioli tiene resa dei conti dunque dopo il voto in Emilia. Parliamo della decisione per quanto riguarda il Partito Democratico alle prese per quanto riguarda le prossime elezioni regionali nelle Marche. Non dirimente e al limite del bypassabile, con la sabbia nella clessidra che continua a scorrere ed il traguardo delle elezioni di maggio sempre più vicino, la direzione regionale del PD di ieri è ruotata per intero attorno al piano sociosanitario approvato con qualche sprazzo di regionali in una tantum. Assente Ricci, guadagna un altro punto Ceriscioli. Dunque la resa dei conti nella direzione regionale della prossima settimana. Poi sotto furto a Villa Palombara. Siamo sempre nel Pesarese. Due ladri subito arrestati. Sono stati sorpresi dal custode che ha dato l'allarme. I carabinieri hanno recuperato la preziosa refurtiva. E questo invece è il Carlino di Pesaro. Proposta di matrimonio, fusioni, Valle Foglia, dopo Monte Ciccardo, Ricci e Occhielli ci provano. Mentre il titolo è per un uomo che ha presentato un certificato dicendo di avere male all'anca e poi in realtà è andato a correre al palio dei braceri. E adesso è finito a processo. Sulla cronaca di Fano vedremo tra poco una badante che fa la 007 e scopre chi è stata a rubarle i soldi dalla borsa. E senza poi neanche troppi colpi di scena insomma ha scoperto che era la sua collega badante che come lei accudiva una anziana di Fano. Si aspetta il voto in Emilia, il candidato, il PD ha deciso di non decidere e dunque aspetterà di vedere come andrà in Emilia. Poi tentano di sbagliare anche qui Villa Palombara, Monte Porzio, furto sventato. Due persone sono finite in manette. La cronaca è la prima pagina del resto del canio di Ancona. Vietategli Sanremo rivolta contro il rapper che incita alla violenza sulle donne. Il rapper mascherato Junior Calli con Amadeus, presentatore del prossimo festival di Sanremo. E tratta di badanti invece, tratta di badanti clandestine. Arrestata una donna, blitz della polizia in un negozio di Senigallia. Trasformato in un centro di collocamento per tutta la provincia di Ancona. Furti in trasferta, scatta la retata. Quattro albanesi presi dai carabinieri di Civitanova dopo un raid nell'Ascolano. Indagini sui colpi in provincia. Centropagina, giù le mani dal convitto. Ipotesi trasloco, alto là dei genitori al comune. Questa invece è la prima pagina del quotidiano nazionale che si occupa di questa vicenda che arriva da Servigliano in provincia di Fermo. Colpo di scena dunque, dicevamo, nelle indagini sulla morte di questa bambina di sei anni rimasta prigioniera nel rogo divampato in casa la notte dell'8 gennaio nel Fermano. La mamma della piccola è stata infatti fermata e portata in carcere con l'accusa di omicidio volontario per gli inquirenti. Sarebbe stata la donna ad uccidere la figlioretta per poi coprire le prove dando fuoco alla casa. Una tesi formulata dal sostituto procuratore di Fermo Francesca Perlini accolta dal GIP del Tribunale che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna. La donna che è una 38enne di origini bulgare e che è stata prelevata dall'ospedale dove era ricoverata e portata in carcere. Qualcosa che qualcosa non quadrava in tutta questa ricostruzione della tragedia si era già intuito, scrive il giornale Fabio Castori, già la scorsa settimana quando i carabinieri si erano presentati insieme ai servizi sociali nell'asilo dove c'era la più piccola di 4 anni, l'hanno portata via senza dire nulla. Il papà, lo ricordiamo, era fuori durante la tragedia avvenuta l'8 gennaio. Questa è la casa nel cerchio tondo, l'immagine proprio dell'appartamento. Vedete il fumo ancora nero che ha annerito le pareti esterne di questa casa. Il papà era fuori. Adesso tutte nei guai è finita appunto la donna. Soprattutto quello che non ha fatto approfondire, meno male, tutto quanto è stato il tempo che è trascorso della donna nel chiamare i soccorsi. Sono passati diversi minuti tra l'incendio e il momento in cui la donna ha chiesto aiuto e poi ha fermato un'automobilista in strada supplicandolo di chiamare i soccorsi. Ecco, questo tempo ha fatto, come dire, addrizzare un po' le orecchie ai carabinieri che poi sono andati avanti e poi naturalmente le contraddizioni, i dubbi che ancora sono da chiarire ma soprattutto all'occhio, come dicevo, era balzato questo ritardo con cui era stato lanciato l'allarme e per di più da un'automobilista di passaggio fermato dalla donna che si trovava sul bordo della strada con la bambina più piccola, con questa figlioletta, senza fare nulla apparentemente per salvare invece l'altra. Poi dopo si era pensato alla tragedia perché quando sono arrivati i carabinieri anche loro avevano avuto difficoltà a entrare nell'appartamento però evidentemente nei primi minuti in realtà era fattibile come portare via anche l'altra bambina quindi purtroppo, adesso poi sapremo qualcosa di più sicuramente nei prossimi giorni. Questa invece è la cronaca di Fano La badante 007 incastra la collega ladra In che modo? Come avrebbe fatto davvero un 007 a tutti gli effetti? Perché? Perché ha teso una trappola per verificare se fosse appunto la sua collega ad averle rubato i soldi anche in precedenza ha teso la trappola, ha messo altri soldi dentro la borsa con una polverina e poi con un apparecchietto ha incastrato questa collega perché la collega si è sporcata le mani con questa polverina l'apparecchio una volta acceso ha evidenziato le mani sporche con questa sostanza fluorescente quindi le ha illuminate si sono illuminate queste dita e quindi questa donna è stata inchiodata c'è tutta la ricostruzione i protagonisti, queste due donne sono l'imputata che è un'albanese di 56 anni che è residente a Fano e la vittima di questo furto che è una donna ucraina tutte e due lavoravano come vadanti al servizio di una donna anziana fanese su via Craxi via Craxi a Fano la no di Luzzi mentre il PD è possibilista San Costanzo però è arrivata prima perché da noi dicono a San Costanzo l'intitolazione della via Bettino Craxi risale al 2009 è una proposta lanciata ieri dal segretario cittadino del PSI che però divide per quanto riguarda la Luzzi dice nel caso specifico di Bettino Craxi non ci sono le condizioni perché certamente ha avuto delle intuizioni importanti ma ha deciso di non andare a processo e si è esiliato in Tunisia poi c'è l'uomo Craxi che va oltre il politico ma questo è un altro ragionamento alla Gandiglio una scuola di Fano inaugurato il progetto Tellier nel ricordo di Atos Salucci che ha diretto per tanti anni la scuola e che è ancora nel ricordo di tantissimi un caso di Scarlattini invece in una scuola Senigallia è una scuola dell'infanzia a vivere verde migliorano invece le condizioni della maestra colpita da meningite batterica una donna di 52 anni che ha risposto alle cure e sabato era vigile e ha parlato con il marito e i figli domenica sera è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nonostante però il miglioramento la prognosi resta riservata mentre sono ancora in gravi le condizioni di quella 73enne senigalliese colpita da meningite batterica lo scorso 2 dicembre mentre si trovava a Bagno di Romagna insieme ad alcuni amici la donna è stata subito trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena a distanza di quasi due mesi dal contagio le sue condizioni restano gravi scrive il resto del Carlino la donna è stata trasferita dall'ospedale di Cesena a quello di Senigallia sotto invece aggredita alle spalle per avere il portafogli lei urla mentre il ladro fugge il ladro che ha detto ha intimato dammi il portafogli una 64enne è stata dunque aggredita alle spalle mentre rientrava a casa è successo ieri sera poco dopo le 19 in via Trento a Senigallia nonnino Puscher ci ricasca e finisce in carcere è un pensionato un 69enne che era già stato fermato a Marzocca dai carabinieri aveva una dose di droga e quasi 500 euro incontranti un pensionato che da qualche tempo si era messo a spacciare perché altrimenti dice lui non riesce non sarebbe in grado di mantenere una figlia piccola dunque era andato ai domiciliari i carabinieri lo controllano ancora e trovano tre etti di stupefacente di conseguenza è tornato in carcere mentre la droga gira anche purtroppo nelle scuole un blitz al campus scolastico sempre a Senigallia due studenti trovati con la droga un minorenne e un diciottenne avevano mariuana sono stati segnalati alla prefettura come assuntori a Borgo Santa Maria invece siamo nel Pesarese voleva ammazzare me e i miei tre bambini l'ex moglie dell'egiziano è in carcere per aver cercato di uccidere l'amante di lei lo accusa anche di tentata strage ma la procura non gli chiede non gli crede è una storia un po' complicata di denunce contro denunce comunque la troverete questa mattina sul resto del Carlino si ribalta invece un camion nella discarica di Casprete paura alle 7.30 di ieri mattina guardate la fotografia eccola qua questo camion che si è ribaltato il camion appartiene a una ditta di Foligno si è rovesciato al momento di scaricare il conducente si è ferito è rimasto ferito ed è stato portato in elieambulanza alla torrette di Ancona razzia di oggetti antichi a Villa Palombara invece il custode però se ne accorge arrestati due ladri avevano trafugato elementi d'arredo strumenti musicali e quadri già patteggiata la pena la refurtiva avrebbe avuto un valore di oltre 20.000 euro fuga interrotta dai carabinieri mentre ci sono dei lavori sulla rete idrica e disagi soprattutto nelle ore notturne perché questa sera dalle 22 fino alle 8 di domani mattina a Ponterio Centocroci sulla Cesanense ci saranno questi lavori e quindi probabilmente mancherà l'acqua nei rubinetti stiamo parlando per i telespettatori che ci seguono dal quartiere Centocroci Ponterio via Cesanense via Valcesano fino al ponte dell'autostrada via La Bella la zona industriale via Mattei via De Gasperi poi Mondolfo Capoluogo e Mondolfo centro storico comunque per tutte le altre informazioni c'è il numero di telefono anche di Aset ancora dal Carlino la seconda vita dell'ex sindaco di Saltara Claudio Guccioni pronto il suo nuovo romanzo si intitola Il Purgatorio non è eterno e sarà presentato sabato alle 17.30 a Orciano progetto Grande Pesaro Vallefoglia dopo Monteciccardo Ricci nel post referendum dice Conucchielli ci stiamo ragionando spetta alla regione dopo il risponso alle urne dare concretezza al meccanismo della fusione adesso comincia l'anno di transizione ma qui di spalla c'è un commento di Patrizia Bartolucci su alcune voci che girano e che fanno emergere l'ambizione di Matteo Ricci e anche quella dell'eterno Palmiro Ucchielli in passato i cittadini di Monteciccardo si erano rivolti a Palmiro Ucchielli per capire se c'erano le condizioni per un accorpamento con Vallefoglia ma il sindaco preferì declinare l'invito quella volta e ora però si scopre che sta ragionando con Matteo Ricci per una fusione con Pesaro in realtà la voce gira da qualche settimana ma fino a ieri sembrava di poco credito diceva questa voce che il progetto di fusione è nella mente dei due sindaci da quando la precedente unione del Foglia è naufragata per lasciare spazio all'entrata dei suoi comuni nell'unione di Pian del Bruscolo di cui Ucchielli è il presidente una unione che si sorregge si sorregge soprattutto sui contributi che gira Pesaro diceva questa voce che l'unione per il comune di Pesaro è una perdita di denaro ma è funzionale all'ambizione di Ricci di creare la più grande città delle Marche di cui lui sarebbe l'artefice mentre l'ambizione di Ucchielli sarebbe sempre secondo questa voce di avere un ruolo nella giunta nel nuovo comune una volta concluso il secondo mandato non rinnovabile da sindaco di Vallefoglia voci ma le parole di ieri di Ricci fanno pensare che potrebbe davvero essere non soltanto voci ma dietro ci potrebbe essere qualcosa di vero intanto questo matrimonio è possibile dice Ucchielli ma prima dobbiamo fidanzarci è ancora prematuro e comunque deve essere la gente a decidere quelli del sì dicono è una vittoria certo ma senza festa e quanti insulti quanti insulti ci siamo presi il comitato promotore e l'incorporazione come male necessario ora possiamo mettere a posto i conti economici e con l'unione Pesaro-Vallefoglia nasce la metropoli delle Marche Ricci sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria del referendum sull'incorporazione di Monteciccardo dice guardare avanti e pensa a Pian del Bruscolo strizzando l'occhio anche a Tavuglia e a Monbaroccio che però come ricorderete ha già detto di no precedentemente di unificazione si può ragionare ma invito Ricci a usare prudenza Ucchielli rileva già lavoriamo in sinergia poi auspica il coinvolgimento dell'intera vallata Ceriscioli primarie o il candidato sono io il PD rinvia la decisione dopo il voto in Emilia il Presidente se non si vota per scegliere ogni altro accordo richiede i tre quinti dell'Assemblea la direzione regionale del partito ha rinviato ogni verdetto troppe le assenze tra cui quelle di Ricci sindaco di Pesola e della Mancinelli sindaco di Ancona Ponte Sasso spiagge scogliere ecco i soldi la regione mette a disposizione ulteriori 151 mila euro 62 mila anche per Mondolfo Minardi dice affano la fetta più grossa delle risorse smog e blocco delle auto CNA dicono servono le navette intanto le associazioni hanno richiesto incontri con gli assessori per evitare ricadute sugli operatori siamo a Fano Fano che ha deciso di fermare le auto per le prossime due domeniche una sorta di carnevale senza carri servono bus navetta dei parcheggi al centro storico siamo ancora nelle domeniche dei saldi e dunque questo chiede Fausto Baldarelli della CNA in occasione delle domeniche ecologiche il 26 gennaio e il 2 di febbraio previste dall'amministrazione comunale per combattere l'emergenza delle polveri sottili con 11 sforamenti nei soli primi 15 giorni del nuovo anno e picchi soprattutto allarmanti a metà della scorsa settimana che sono stati rilevati sia dalla centralina di via Montegrappa sia da quella di Bellocchi c'è un incontro per quanto riguarda il digestore anaerobico un digestore per il quale Lega Ambiente dice ce n'è uno a Foligno andate a vederlo andate a vedere come funziona Lega Ambiente che è favorevole meglio il biogas prodotto dai digestori anaerobici rispetto alle trivellazioni in Adriatico per l'estrazione del metano e poi dicevo c'è un incontro venerdì nella sala della Carifano per far luce sulle quelle che loro definiscono fake news ovvero delle notizie false turismo Varotti esulta mentre Chiara Billi smentisce siamo a Fossombrone dove si discute e c'è bagarra sui numeri dei visitatori secondo lo IAT gestito da Confcommercio sarebbero in crescita mentre il consigliere Chiara Billi che è stato anche vice sindaco dice qui non c'è nessuno come fanno a vedere tutti questi numeri e tutte queste persone l'associazione gestisce dietro compenso l'ufficio informazioni mentre arriva la prima neve dell'anno sui monti ci sono 25 cm ancora però insufficienti per aprire gli impianti quelli di risalita del Monte Catri e anche quelli del Nerone l'importante adesso che il termometro regga che le temperature non si alzino il termometro è sempre sotto lo zero con ghiaccio in tutte le strade quindi bisogna fare attenzione ma stare sotto lo zero significa anche mantenere quel po' di neve quel poco di neve che ancora c'è Avisi Donatore e Urbino ci sono ma i medici fungono incontro nei giorni scorsi tra Asur e le associazioni del territorio per velocizzare i controlli i bandi del riclutamento dei sanitari sono un flop e ancora sempre da Urbino però questa volta dal Corriere Adriatico è fallita la missione di Sgarbia a Parigi no del Louvre al ritratto di Castiglione il critico d'arte per la mostra di Urbino mi inventerò qualcos'altro all'esposizione di Aufreiter 107 mila visitatori per il 25 annunciata la presentazione di tutti gli eventi l'ipotesi della Calandria con Pizzi ma l'opposizione non vuole collaborare l'assessore Maffei e il sindaco Gambini al PD e a Viva Urbino Master Show il rally dei campioni siamo a Vallefoglia la Kermess torna in pista a marzo terra dei piloti ufficializzate le date della nuova edizione che trasformerà la piana di Talacchio in un circuito e ancora dalla Valle Metauro turismo i conti non tornano contestato il report di Varotti Unione di Fossombrone attacca Confcommercio i dati su arrivi o partenze ma contatti dunque si discute su questi numeri lamentato un calo invece di turisti a Fossombrone in base alle testimonianze dei gestori dei locali pubblici mentre teatro civile comicità e dialetto a San Lorenzo in campo Tiberini lo spettacolo tutto l'anno stasera di scena in scena c'è è bello vivere liberi e poi da Fratterosa alla Corea terra cruda e d'oro e poi sotto bello bono pattezza il network tra Casa Sponge e Casa Mavi siamo sulla pagina di Fano ancora del Corea Adriatico crisi il territorio ancora in sofferenza pressione sui servizi di carità se comune in campo gli aiuti dell'ente locale le famiglie e gli sgravi e le imprese cruciale il ruolo dell'ambito sociale scogliere arrivano altri fondi per Ponte Sasso nell'ultima tranche 1,6 milioni la somma maggiore destinata a Fano sempre dalle croniche di Fano del Corriere mobbing proposta articolata il deputato del Movimento 5 Stelle Rossini rivendica l'originalità della sua iniziativa rispetto a quella presentata in precedenza dall'area Ricciatti la normativa di 10 articoli prevede anche misure per prevenzione e informazione mentre Puliamo Fano ha superato il tetto di 5 tonnellate di rifiuti raccolte tanto pesano i rifiuti rimossi in un anno un quintale e mezzo nell'ultima uscita nella zona del Metauro chiuso chiuso invece sempre da Fano il parcheggio dell'ex Vittoria sarà ancora disponibile però per l'estate la proprietà conferma l'area di sosta a Lido da giugno a settembre bloccato invece il progetto del nuovo albergo un parcheggio devo dire stranissimo perché tra l'altro si passa proprio piano piano bisogna stare attenti agli specchietti in questa porticina qua ora io mi chiedo perché non buttare giù tutto quanto e fare un parcheggio decente chiaro sto dicendo una castroneria perché vista dal punto di vista dei proprietari dice ma fatti gli affari tuoi io il mio cancello lo tengo così ma vista dalla parte invece di chi deve esufruire poi del parcheggio durante l'estate avere un ingresso di questo genere molti turisti dicono ma perché una cosa del genere perché così perché un parcheggio di questo genere bisognerebbe spiegarglielo bene ma insomma non è poi così semplice secondo Daniele Piccini avrebbero un mercato solamente i mini appartamenti previsti lì sappiamo tutti che dovrà sorgere non un parcheggio ma appunto degli appartamenti e quant'altro però finché parcheggio insomma si potrebbe anche risolvere questo problemino vendite a Natale il 92% dei rinunzianti è soddisfatto turismo la giunta a gongola per il gradimento delle iniziative di Natale più anche qui il Corriere Adriatico oggi pubblica le stime delle presenze degli ingressi della pista di patinaggio tutti i numeri che riguardano il Natale più cioè gli eventi dedicati al Natale che si sono conclusi il 6 gennaio quindi un bilancio che possiamo dire più che positivo noi ci fermiamo con la rassegna stampa l'informazione torna questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e come sempre nel ringraziarvi per la vostra collaborazione come sempre ci segnalate tante cose che a noi ci danno la possibilità di approfondire poi le notizie di seguirle di poi farle fruire anche ai nostri telespettatori dunque non dimenticate il numero di telefono per queste segnalazioni che avete appena visto grazie per averci seguito buona giornata a tutti Grazie a tutti